rieccoci qui nel nostro video brevi che poi non sono abbastanza brevi per essere degli shorts che qualcuno mi ha suggerito anche di chiamare video flash e il nome non mi dispiace quindi eccoci qui nel nostro video flash innanzitutto vorrei scusarmi per essere rimasto un pochino indietro con le risposte ai commenti prometto oggi di mettermi di buzzo buono e di rispondere a tutti quanti naturalmente come giusto che sia a partire dagli abbonati ma veniamo subito all'argomento di oggi oggi vorrei parlarti di un problema che ho riscontrato su diverse macchine probabilmente sarà capitato anche a te di avere una linea adsl o in fibra che non performa come vorresti bene è possibile che un parametro non sia settato correttamente andiamo a vederlo insieme ti senti pronto iniziamo prima di cominciare facciamo un bel test di velocità per poter capire se ci sono differenze prima e dopo la modifica che sto per suggerirti io per farlo utilizzo questo sito qui speedtest.net naturalmente tu potrai utilizzare il sito che preferisci mi tolgo di mezzo per farti vedere la schermata e andiamo a cliccare sul pulsante vai proprio nel centro del sito attendiamo il termine della misurazione della velocità ecco fatto come puoi vedere in alto i parametri sono 124 in download e 153 in upload tiriamo giù questa pagina diamoci immediatamente da fare la prima cosa in assoluto sarà aprire il pannello di controllo per farlo apro una qualsiasi cartella di esplora file e in alto mi porto su questa frecciolina qui la clicco e scendo in basso fino ad individuare appunto il pannello di controllo facciamoci clic su e nel pannello di controllo ci portiamo sulla sezione rete e internet fatto questo andiamo su centro connessioni di rete e condivisione e quindi sul lato sinistro individuiamo modifica impostazioni scheda quando si aprirà questa finestra cerchiamo la nostra scheda di rete in questo caso ne ho una sola ma se dovessi avere anche una scheda wifi potrebbero essere due e in questo caso ti consiglio di ripetere l'operazione per ogni scheda di rete installata sul tuo dispositivo selezioniamo quindi la scheda di rete cliccandoci su e poi successivamente facciamo un clic destro del mouse scendiamo fino all'ultima voce proprietà clicchiamoci su e nella voce proprietà andiamo a cliccare il pulsante configura una volta in configura ci dovremo portare sulla scheda avanzate questa qui e a questo punto dovremo andare ad individuare questa voce link speed and duplex probabilmente avrai un valore basso impostato su questa scheda oppure potresti avere una autonegoziazione l'autonegoziazione va già bene ma nel dubbio potresti selezionare il valore più alto in assoluto per essere certo di utilizzare al massimo della sua potenza la tua scheda di rete fai quindi clic sul massimo valore e successivamente clicca sul pulsante ok e chiudi tutte quante le schede adesso andiamo a riaprire il nostro browser lasciamo questa scheda qui e apriamo un nuovo speed test di ukla clicchiamo sul pulsante go e guardiamo se ci sono differenze direi che sicuramente le differenze ci sono e come perché adesso abbiamo 477 in download e 189 in upload contro i 124 e 153 in tutta onestà ti dico che questa era una differenza davvero eclatante perché nel caso di questa macchina davvero mal configurata siamo passati da 10 megabit per secondo a 1000 megabit per secondo ma giocando con questo parametro molto probabilmente anche sulla tua macchina riuscirai a guadagnare un po di velocità nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto niente paura reimposta il parametro esattamente come era prima e nel dubbio puoi impostarlo in ogni caso su auto negoziazione alla prossima